Buongiorno a tutti, questo è troppo, ecco lo spessore di Marco Rizzo per gli amici di Visione TV, per gli amici di Italia Sovrana e Popolare. Marco Rizzo è stato l'altra sera, sabato, in prima fila, ballando con le stelle, veramente molto vicino al popolo, guardateli lì tutti i ricchi radical chic, a sputtanarlo e Mentana, che sapete che si conoscono bene, no? Siccome si è sentito offeso l'altra volta, ha tirato fuori questa sputtanata nei confronti di Marco Rizzo. L'occasione è stata fornita da alcuni scatti che hanno immortalato l'esponente comunista in prima fila sabato sera, a ballando con le stelle. Sarà mica il leader antisistema Rizzo, quello a ballando con le stelle? Hai rinunzato un utente social, postando gli scatti tra il pubblico della trasmissione condotta da Millie Carlucci, Rizzo e i suoi tre in platea a ballando con le stelle. Ha twittato sarcastico un altro. Bello, e lui sarebbe vicino al popolo e va in prima fila ballando con le stelle. Ma fatemi il piacere, ditemi, dite cosa ne pensate. Ora qualcuno dirà, eh uno fa quello che vuole. Ma se lui è contro il sistema, contro questo capitalismo e poi va ballando con le stelle, fate pace con voi stessi.